è probabilmente la catasta di legna più costosa del pianeta si tratta di ciò che resta della struttura portante di quella che avrebbe dovuto essere la cattedrale vegetale lungo le rive dell'anda a lodi un omaggio a giuliano mauri l'artista lodigiano reso celebre proprio grazie alle sue opere in legno immerse nella natura sono destinate a deperire nell'arco di decine se non di centinaia d'anni ma qui nell'area dell'ex sic la cattedrale vegetale scomparsa in un paio d'anni mandando in fumo quasi 300 mila euro in buona parte spesi dal comitato organizzatore di expo 2015 è stato sufficiente un temporale un po più violento del solito per abbattere le infrastrutture costruite per ospitare le piantine di quercia destinate a dar vita alla cattedrale le impalcature sono crollate ma le piantine non tutte sono rimaste hanno superato anche l'esame più difficile l'incuria degli uomini e non è detto che non si riprendano la scena dando forma un po più spontanea a quel bosco a forma di chiesa immaginato da mauri